Il titolo di oggi è Dalla Repubblica, pagina 54. Il titolo è Luna di Fiele ed è un'intervista di Maria Piafusco a Jim Broadbent, che è protagonista delle Weekend di Roger Michel, un film a cui abbiamo dedicato già l'altro ieri, il lunedì in nove, un titolo. La storia di una coppia che dopo 30 anni di matrimonio torna a Parigi dove era stata appunto in Luna di Miele. Ci sono due domande di questa intervista che prendiamo. La prima dice che i critici concordano nella sensazione che lei sia semplicemente se stesso. Jim interpreta Nick, il marito. Non esageriamo, riconosco Nick ma non sono proprio come lui, soprattutto non ho il suo coraggio. Nella sequenza della scena con Morgan e gli amici intellettuali, Nick si sfoga, impiedoso con se stesso, dice tutta la verità sui suoi fallimenti, sulla frustrazione di chi voleva cambiare il mondo e si è accontentato di una vita priva di ambizioni, come gli rimprovera la moglie. Non avrei mai potuto fare una cosa del genere, io avrei taciuto. E Maria Piafusco chiede, lei voleva cambiarlo il mondo? Ecco la risposta. Forse, come tanti della mia generazione. I miei genitori avevano organizzato una specie di comune. Sono cresciuto tra artisti e creativi in un clima di amicizia e solidarietà. Credevo che quello fosse un nuovo modo di vivere. C'era anche un teatro a cinque anni e ho recitato per la prima volta e ho scoperto che sul palco avevo perso la timidezza. Faccio l'attore, non so quanto con il mio mestiere si possa cambiare il mondo.